Di nuovo il più cordiale e ben interconnessi, carissime amiche e carissimi amici sintonizzati su Spreaker, Spreaker con la K si iscrive quindi sul web, è una web radio, un circuito di web radio questo chiaramente, che però io spero vi tenga sempre tanta tanta compagnia. In video sulla mia pagina personale Roberto De Angelis ci sono ancora le trasmissioni di Radio In Palermo 102, quindi chi le vuole rivedere può andare o sulla mia pagina personale o su Fracalcio in realtà The Original o sulla pagina Facebook Radio In Palermo. Saluto tutti gli amici che ci seguono da Palermo, tutti quelli che ci seguono da San Pierniceto di Messina, un saluto va a Radio Molise Città d'Italia, mi dicono che sia così, quindi una web radio appena costituita che si è consorziata con noi. Un saluto quindi a tutta la regione Molise perché ci vengono ripetuti i files in diretta e in differita anche lì e un saluto va agli amici dell'Equador, a dei DJ ecuadoregni che ci tengono tanta compagnia con la loro dance music, con la loro electro music e la musica latino sudamericana e nel frattempo però ripetono anche le nostre trasmissioni. Io sono contento che vicino Lima ci siano tre italiani che nella vita svolgono la professione di camerieri e che ci ascoltano a quanto pare molto intensamente, uno di questi tre è della Roma, meno male, festeggiamo, l'altro ahimè della Lazio, vabbè non si possono avere tutte le ciambelle col buvo e l'altro addirittura è del Milan. Però a parte le vicissitudini sportive che sono marginali salutiamo Alfredo, Enrico ed Andrea. Ragazzi mi raccomando tenete duro, tenete testa ma avete scritto che non avete la minima voglia di tornare in Italia ma se lì io vi do un consiglio, se lì vi trovate bene e vi siete sistemati in una maniera abbastanza oppositiva che dir si voglia e beh la vostra vita poi la vedrete piano piano questo al di fuori dell'essere del Milan, della Roma, della Lazio, della Juventus e via discorrendo. Veniamo a noi però, questa è la Roma, questa è la Roma naturalmente abbiamo adesso in collegamento Gabriele Tarangelo, buon pomeriggio a te Gabriele. Un caluroso saluto a te Roberto, ben interconnessi ovviamente a tutti gli amici web radio ascoltatori di Radio 1. Allora Sport Radio perché Gabriele fa parte della redazione sportiva di Sport Radio del direttore Fabio Pezzotti che durante questa settimana anche se dalla zona di Amalfi dove stava beato lui in vacanza ha emesso altri tre file di trasmissione e quindi noi ne prendiamo nota che Sport Radio fa di questi file. E continuo a ripetere ancora una volta, Tarangelo mi darà conferma oppure no, che c'è questo file misto dove si parla di attualità, di informazione, di sport, di cultura, di tutto insomma, no? Confermo assolutamente Roberto, è un file completo nel quale appunto vengono racchiusi tutti i temi principali relativi appunto a diverse tematiche come hai giustamente accennato tu, assolutamente sì. Nel secondo invece si parla solo di beauty bellezza estetica perché voi nel vostro staff avete un estetista che è un'espertissima del settore, ovvero sia Elena Giovanna Ricciotti. Corrisponde questa indiscrezione? Confermato, di meglio di lei, anzi approfittiamo, cogliamo l'occasione per salutare Elena ovviamente, lei ovviamente è esperta del settore, sappiamo che ha proprio un negozio che si occupa di questo, quindi chi meglio di lei potrebbe rappresentare questo tipo di informazione? Anche perché come ben sai il beauty con noi adesso negli ultimi dieci anni è riuscito ad aprire qualche breccia, ma con le donne è un oceano pacifico, un oceano atlantico mixato insieme, no? Prodotti, sottoprodotti, creme, sottocreme, cremine, chi più ne ha più ne metta, o mi sbaglio io? No, no, chi più ne ha più ne metta è proprio il tema, diciamo, le parole giuste, hai colto, sappiamo che anche i maschietti sono diventati molto, diciamo, narcisisti, ecco, diciamo sì. Anche perché poi capita la scena comica che nello stipetto del bagno, sia che tu sia sposato da 4 anni o da 33, la tua schiuma da barba cambia sempre posizione, nel senso, c'è la crema a panotte, la crema per l'alba, la crema a mezzogiorno, ma io qui c'avevo la schiuma da barba, ma perché tocchi, non trovo più niente, ma non sei capace a vedere? Spostano un po' di cose e la trovi, l'ho trovata in quattordicesima posizione quando stava sempre in testa la mia schiuma da barba, non so se da te capita la stessa cosa. L'ordinaria amministrazione, Roberto, è vero, è vero, verissimo. No, poi l'armadio della camera da letto sono sei ante, cinque ante e mezzo sono per lei, la mezza è per te dove pantaloni, camice, maglioni sono tutti stretti come sardine in scatola. Sì, esattamente, secondo me l'unica soluzione adesso è comprare più armadi possibili proprio per far sì che si possano contenere tutte queste cose. Quindi diciamo che 30 anni di vita, visto che tra me e te passano 30 anni, non hanno cambiato nulla, le donne sono sempre... Tutto nella norma, assolutamente, non cambia nulla, non cambia nulla. Ma dopo 30 anni sono ancora le padrone di casa, comandano solo loro e decidono tutto loro? Come sempre, le donne purtroppo hanno, sono proprio, purtroppo sempre loro a comandare, per fortuna, diciamo, ovviamente di scherza. Lasciamo andare, poi sulle cose marginali, sulle cose serie, chiaramente quando si è coppia si decide insieme, ci mancherebbe altro. Oh, veniamo a noi. Allora, qui ci sono, c'è stato, mi dicono, l'allontanamento di Sebbino Nela dalla S Roma femminile, se non ho capito male. E tutti stanno commentando in maniera molto accesa. Io però dico, pure a microfoni accesi, chiaramente, che se noi non conosciamo le esatte motivazioni di questo esonero dalla carica di Sebbino Nela, perché non se n'è andato di sua volontà, non ha assegnato le dimissioni, che cosa commentiamo? Che ci dispiace amaramente, questo sì, ma più di questo che possiamo dire, Gabriele? Possiamo dire che dispiace sempre vedere comunque un simbolo come Sebbino Nela, ovviamente, che conosciamo tutti, al quale non viene rinnovato il contratto, lui che per la Roma ha dato, diciamo, corpo e anima, quindi lo sappiamo perfettamente. Sono comunque delle notizie che fanno dispiacere, soprattutto ai tifosi romanisti, anche di vecchia data, ma anche ai giovani che conoscono ovviamente questa figura ingombrante, tra virgolette. Oh, figura ingombrante per qualche quadro, cioè, e vedi, poi si entra nel campo ipotetico e tutto può essere confermato e tutto può essere negato, no, Gabriele? Certo, ovviamente poi le dinamiche esatte, secondo me, rimangono sempre nelle quattro mura di Trigoria, ovviamente. Noi sapremo sempre il minimo in relazione a queste vicende, secondo me, ma la dinamica esatta poi non ce le diranno mai nell'esattezza. Quindi prendiamo atto di questo ennesimo allontanamento, di un altro simbolo di Roma a malincuore, però purtroppo questa è la realtà. Quindi le figlie hanno anche segnalato questa cosa, l'hanno fatto presente sui social, in questa situazione, ne prendiamo atto. Non possiamo fare direttamente, purtroppo, Alberto. Ho visto poi la reazione delle figlie di Sebbino Nela, che insomma dice che papà, il proprio papà, non doveva essere trattato in questo modo. Allora, visto che per dovere di redazione ho un direttore responsabile che mi dice di parlare di eventuale nuova proprietà della Roma, e fino a oggi è giusto, perché noi non abbiamo nulla di concreto tra le mani, indipendentemente dal fatto che la S Roma è quotata in borsa. Allora, prima Virgilio ha detto che i tempi sono maturi, Pallotta, oltretutto, non è più simpatico alla gente, ma Pallotta se ne deve assolutamente andare. Secondo te, vista da tifoso, vista da opinionista, è giusto che Pallotta ne se ne debba andare e cedere il timone, oppure potrebbe ancora dire la sua? Come la vedi? Nella maniera più assoluta, Roberto, sono totalmente d'accordo con Virgilio. Pallotta ha fatto il suo tempo qui a Roma, ha fatto solo nemici, ha fatto solo danni per come la vedo io, quindi la situazione è ampiamente compromessa per come la vedo io. L'unica soluzione migliore per lui, soprattutto, ma soprattutto anche in questo caso per noi, quindi per la società, per chi ama la Roma e per provare a rialzarci, quindi a riprenderci il posto che ci compete in Italia, in Europa e nel mondo a questo punto, perché Roma deve rappresentare il calcio a livello mondiale, per come la vedo io, ad altissimi livelli, quindi non meno di Barcellona, di Madrid, eccetera, quindi quant'altro di questa realtà. La soluzione migliore è che Pallotta si decida effettivamente a cedere alla società. Si sa anche di questa notizia che circola in ultime ore anche di questa cordata sudamericana che porterebbe anche all'ingaggio di Asison Cavani, quindi sono ovviamente delle voci, sicuramente c'è qualcosa in fermento, però in silenzio, con il silenziatore si muove qualcosa. Secondo me dobbiamo solo attendere i fiduciosi che Pallotta faccia solo un momento. Veniamo però a un piccolo qui pro quo. Allora hai nominato Cavani, e vabbè, Cavani è stato un campionissimo, è stato però. Pedro, Pedro Pedro de Santa Fe, come qualcuno l'ha definito goliardicamente, ha una certa età, oltre i 30, 32, 34, 33, che dir si voglia. Zego ha 34 anni. Cioè, è possibile che noi non riusciamo ad avere nel nostro seno giallorosso un attaccante, non dico di primissima fascia, ma un attaccante di 24, 25, 26 anni, che sia di medio valore e che soprattutto sappia dare la zampata, scusate il termine poco radiofonico, che mette la palla dentro. Praticamente il gilardino dei tempi d'oro, che non era eccezionale, però come Simone Inzaghi stavano sempre lì pronti, mettevano la gamba e la palla entrava in rete. Come la vedi, Gabriele, questo? La vedo come l'ovvio risultato di stagioni sciagurate, anche gestioni sciagurate, a mio modo di vedere, Roberto, quindi è ovvio che se non ti qualifichi per la Champions, a malapena riesci a qualificarti per l'Europa League, perché sappiamo benissimo la situazione attuale che sarà difficile anche prendere l'Europa League. Sicuramente la Roma, siamo fiduciosi che riuscirà poi a compiere appunto questo passo, quindi a qualificarsi per la prossima Europa League. Ma quando giustamente una tanata... perdonami, abbiamo gli ex giocatori da 32 anni in su, che ci facciamo? Che cosa ci dobbiamo fare con loro? Non ci fai nulla, ovviamente non ci fai nulla, però in relazione appunto alla competizione che ti apprezzia ad affrontare nella stagione 2021, sai benissimo che purtroppo gli ingaggi, sappiamo tutti i soldi che girano intorno al mondo del calcio, quindi gli ingaggi, i giocatori più importanti ovviamente vanno dove ci sono soldi maggiori, dove ci sono competizioni più importanti, in questo caso purtroppo la Roma si deve accontentare delle bricele, quindi di giocatori in scadenza, di giocatori infortunati, pronti per recuperare, ma non subito, quindi questo è il prototipo del giocatore attuale che la Roma può permettersi purtroppo. Allora però anziché andarti a cercare gli stranieri di passato valore, e l'esempio, io Lampante è pastore, cioè trovati dei giocatori in serie B, magari meno conosciuti, che però hanno qualità medie, non eccezionali, qualità medie, ci fai una squadra forse un po' più modesta, ma che veramente magari sa stare in campo, magari non ti arriverà più del sesto posto, però una certa fisionomia si potrebbe cominciare a vedere, e poi magari maggiore chiarezza da parte dell'eventuale nuova società, cioè dite a noi tifosi quali sono veramente i vostri obiettivi, perché secondo me siamo stanchi, siamo stufi, esausti di sentire ogni anno la partenza, sogni di gloria, e poi racimoliamo veramente nemmeno le briciole a volta. Di tutto questo, Gabriele, che ne pensi? Penso che la parola d'ordine nel calcio moderno è la continuità, Roberto, quindi quando c'è un progetto importante bisogna dare continuità, non si può smantellare ogni anno tutta la situazione, quindi quel poco di buono che si crea ogni anno, se puntualmente viene smantellato e non si dà continuità, l'abbiamo visto anche con la Juventus, che ripartendo dalla serie B è riuscita poi a ritornare alla vetta del calcio italiano, quindi non si parla di millenni, ma si parla di qualche anno fa, quindi bisogna dare continuità, sono d'accordissimo con te che non bisogna puntare solo al blasone del nome, ma piuttosto bisogna puntare magari al giocatore di talento, dare un po' di fiducia, metterlo in campo, dare fiducia e aspettare appunto che arrivi il suo momento e dimostri le qualità appunto in campo. Oh, però la svolta dove potrebbe essere? Perché? Cioè, vabbè, arriva la nuova proprietà, mettiamolo che per un attimo ci sia il nuovo proprietario, tutti fiduciosi, ma il nuovo proprietario se non è un pluristramiliardario, che fa? Il nuovo proprietario innanzitutto deve mantenere la rosa attuale, quindi nonostante il rosso passivo che sappiamo che si aggira intorno ai 130 milioni di euro, che va appunto ripienato entro dicembre, che è una città abnorme, lo sappiamo benissimo, però questo è il risultato purtroppo dell'incauta gestione che abbiamo avuto, lo sappiamo benissimo. Quindi per prima cosa confermare il big, ripartire con un piano importante, quindi con un progetto importante, partire da questi giocatori, fare il colpo a sorpresa, quindi un giocatore che possa riaccendere l'intusione della piazza, questo secondo me sono gli ingredienti base per una partenza appunto con il piede giusto, cosa che non ha fatto James Pallotta. Oh, e veniamo un attimo invece al calcio giocato. Con il Parma alla fine è andata bene, nel senso che tre punti sono arrivati, ti danno una piccola boccata d'ossigeno, anche Virgilio ha visto dei lenti segnali di ripresa, io continuo a vedere una Roma che è sbiatita, è una brutta fotocopia della Roma che era a dicembre, non vado a cercare Rome di altre epoche e dimensioni, però rispetto a dicembre, i primi di dicembre, dove la Roma aveva una certa quadratura del cerchio, oggi per me si è perso tutto. Non ci ludiamo Roberto, io direi il titolo per questa partita è una Roma che vince ma non convince, perché ho visto comunque purtroppo i soliti difetti, il Parma è poca cosa, l'abbiamo visto anche in campo, ma nonostante questo è riuscito comunque a metterci in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, poi la Roma magari ha tirato fuori un po' il carattere, ho visto un po' più di voglia, un po' più di quella, appunto di quel qualcosa che serve in campo, proprio per cercare di portare poi tre punti a casa, però comunque se ci ludiamo con questi tre punti, ovviamente poi non ci dimentichiamo che Fabri ha avuto questa svista clamorosa, dobbiamo anche essere onesti, non dobbiamo essere di parte, non dobbiamo essere sportivi, sappiamo benissimo che anche il secondo rigore era netto, quindi in questo caso c'è anche andata di lusso direi, però non mi illudo assolutamente, perché quello che ho visto in questa partita è un leggerissimo passo avanti rispetto alla prestazione offerta a Napoli, anche lì abbiamo visto dei leggeri segni di risveglio, ma non è la Roma che conosciamo assolutamente. Ho leggeri propositi di risveglio, a Napoli c'è stato un gol capolavoro di Insigne che ci ha piegato alla fine, altrimenti un pareggio pure da lì l'avremmo tirato fuori. Allora, sulla carta, sulla carta, la partita col Brescia non sarebbe difficile, se non ci fossero due situazioni, che il Brescia tenta con le unghie di rimanere in Serie A, e noi dobbiamo tentare a tutti i costi di tenerci questo quinto o sesto posto. Virgilio ha detto prima il Napoli lasciamolo fuori, tanto di diritto ci va in UEFA, è il sesto posto che noi dobbiamo mantenere. Io ripeto, continuo a ripetere, che sarebbe anche un piccolo onore, simbolico chiaramente, se noi magari solo di un punto riuscissimo ad arrivare sopra il Napoli. Guarda che ti dico. Allora, partiamo da Brescia-Roma, partita facile, quattro pallini e ce ne torniamo a casa, cioè li infilziamo come polli, o occhio perché a Brescia troveremo un clima incandescente? L'auspicio è ovviamente quello, Roberto, ma sappiamo che poi dobbiamo far riconti quella realtà, in questo momento la realtà è che la Roma di Pietro è ancora in cerottata, quindi secondo me un Brescia che comunque nonostante le 61 reti passive, quindi le 61 reti che ha subito fino a questo momento della stagione, sappiamo che comunque sta lottando ancora è pienamente in corsa per salvarsi, quindi diciamo che Lecce non è molto distante, gli sta solamente sette lunghezze, quindi è totalmente ancora in corsa per mantenere la massima serie, quindi la serie A. Non mi aspetto una partita semplice perché sappiamo Caricamonti che è sempre un campo molto complesso per tutti quanti, sulla carta ovviamente i valori sono a favore nostro, quindi nettamente a favore della Roma, però non mi aspetto una partita semplice nella maniera più assoluta, bisogna entrare subito in campo determinati e secondo me cercare subito di andare a rete nel primo quarto d'ora di gara per mettere la gara appunto in discesa. Tu dici nel primo quarto d'ora bisogna subito segnare, e me lo auspico pure io, però alla fine è una Roma che quando va in vantaggio innanzitutto non sa amministrare il risultato, deve giocare a trazione anteriore per poter produrre qualcosa, però se i giocatori vanno al piccolo trotto io penso che le rondinelle del Brescia ci daranno del pilota torcere. Vuoi sapere qual è la mia più grande precauzione Roberto? Ti dico subito, ti rispondo immediatamente, l'ennesimo esperimento di Paolo Fonseca. Vorrei non avere l'ennesimo esperimento ma dare un po' di continuità magari a una formazione tipo, insomma, quindi non vedere questi esperimenti incredibili secondo me, vedere un cristante in difesa centrale che abbiamo visto purtroppo, poi ovviamente il giocatore viene messo in difficoltà, al di là dei limiti tecnici o meno, insomma, giocare comunque fuori ruolo con un trequartista che viene schierato difensore centrale è un qualcosa di improponibile secondo me. Io dico, aggiungo altro veleno su questo fatto perché dico che gli sta facendo percorrere la stessa strada tecnico-tattica, intendo, chiaramente, che ha fatto percorrere ad Alessandro Ferenzi fino a che non se n'è andato via, nel senso l'hanno messo nelle condizioni di doversene andare, perché se tu mi provi cristante in diversi ruoli, ormai ne ha fatti cinque di ruoli, mancava quello da difensore e gliel'ha fatto anche fare, il giocatore tu così lo snaturi? O mi sbaglio io? È verissimo, oltre a snaturarlo perde il valore del calciatore, quindi anche a livello di mercato, il giocatore lo bruci, quindi Florenzi abbiamo visto che bene o male è riuscito a ricoprire tutti i ruoli del campo, ma purtroppo cristante i risultati li abbiamo visti, abbiamo pagato a caro prezzo, insomma, soprattutto in occasione del primo gol del calcio di rigore decretato appunto per il fallo appunto che su Cornelius, quindi non do la colpa. Ecco, è mancanza, non dico di esperienza, ma di ruolo, nel senso che cristante il difensore non l'ha mai fatto, ci prova, chiaramente, essendo Goffo negli interventi come difensore, ha trovato dall'altra parte un messirante abilissimo che come è stato toccato, eccolo là, io penso che anche l'avversario capisce che se un giocatore di quel calibro sta fuori ruolo, beh, tenta sempre di fare il colpaccio e così è stato. Certamente, ovviamente un calciatore forte come Cornelius è messirante, quindi una rima punta forte anche fisicamente, sarebbe benissimo avere di fronte a sé un giocatore che non è un difensore centrale di ruolo, la cosa che mi fa ancora più pensare è che la squadra è stata costruita male, tu comunque non ci dimentichiamo che hai un Fazio in panchina, quindi già da lì capisci la fiducia che ripone il mister in questo giocatore che è pari allo zero. Però anche Juan Jesus è diventato a sto punto un ex giocatore della Roma. Per non parlare di Juan Jesus ovviamente, ma nelle gerarchie di Consega secondo me Juan Jesus è ancora più dietro di Fazio, quindi citavo Fazio proprio perché lo vedo leggermente è avvantaggiato rispetto al brasiliano. E poi tu hai Santon infortunato se no sarebbe sceso in campo Santon a quel punto. Ma su questo guarda secondo me c'è stato l'ennesimo errore perché Bruno Perez non mi è dispiaciuto in fase offensiva ma in fase difensiva è totalmente inadeguato per questi livelli quindi io avrei schierato all'inizio la formazione quindi in difesa quello che lui ha fatto negli ultimi minuti che è stata la scelta secondo me migliore ovvero schierare Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra questa secondo me è la produzione migliore ma da praticare quindi da mettere in campo dal primo minuto non dal 75 litri insomma o così via Sei d'accordo con il mister che nelle ultime due partite Kolarov è stato usato praticamente col contacoce nel senso che non è partito titolare io penso che ormai titolare sì lo può fare tre o quattro partite poi si deve fermare Credo che il motivo principale sia da imputare all'età esattamente quindi una serie di partite ravvicinate come ovviamente sapevamo ma i ritmi ovviamente sono sono alti non è facile per un giocatore comunque dell'età di Alexander Kolarov quindi è stato secondo me una mossa proprio messa in pratica per far ripetare il calciatore io un giocatore come Kolarov comunque per carisma e anche ovviamente per i calci da fermo sappiamo che è anche un ottimo tiratore quindi lo metterei sempre in campo però ovviamente se poi vedi che tira il fiato sei costretto a metterlo fuori a proposito di Kolarov mi scrive Elena da Tordinona omonima di Elena di Sport Radio hanno lo stesso bellissimo nome di battesimo Elena di Tordinona vede un Kolarov che siccome non corre più però è massiccio ha un bellissimo stacco di testa riesce a anticipare ancora come contrasto quando ci si mette di impegno e dice in Inghilterra l'hanno utilizzato anche come difensore centrale è possibile che al piccolo chimico lo stanno chiamando tutti il piccolo chimico al piccolo chimico Fonseca sfuga questo perché non hai più un centrale Smalling a volte gioca a volte no Smalling poi se ne andrà a fine campionato non gli faranno disputare neanche la gara di Coppa UEFA la prima con la Roma perché in Inghilterra hanno detto basta allora se tu provassi Kolarov difensore centrale insieme a Mancini forse forse qualche piccolo problema lo avreste risolto perché secondo me Kolarov centrale anche se ha l'età che ha è meglio Sede Juan Jesus che Di Fazio sono d'accordo per me è una soluzione perché comunque ripeto Kolarov per me è un calciatore importante l'unico limite adesso che gioca a suo svantaggio secondo me è l'età quindi relativo al fattore anagrafico per quanto riguarda i valori del calciatore sia tecnici che comunque anche di carisma di importanza in campo di dare quella sicurezza ai compagni secondo me è un giocatore che rispetto a un Cristante schierato centrale a un Passio a un E-Painet che vedo totalmente inadeguato in questo movimento poi magari da qualche anno diventerà il difensore centrale più forte della Serie A questo non possiamo mai dire però in questo momento purtroppo questi sono i calciatori quindi schierare un Kolarov centrale in questo momento sicuramente mi darebbe più garanzia e più sicurezza rispetto a questi altri esperimenti che abbiamo visto in questi ultimi turni di campionato veniamo un attimo a noi noi allora abbiamo Cristante Luca Pellegrini Veretù Mkhitaryan e Zaniolo Zaniolo è l'unico che ha dimostrato di essere molto più d'utile perché quando lo schieri pure a destra come esterno di fascia alta dà il suo contributo il vero Zaniolo questo si sta riprendendo deve ritrovare il ritmo partita ma gli altri quelli nominati prima da me quindi Mkhitaryan Veretù Luca Pellegrini e Cristante sono tutti e quattro trequartisti puri all'epoca mia si diceva che il trequartista era la mezzala di punta quella che si metteva dietro gli attaccanti e suggeriva l'ultimo passaggio allora a sto punto se tu avevi Luca Pellegrini io posso capire prendi Cristante perché devi alternare quando l'uno dei due magari infortunato squalificato ci può stare ne prendi un terzo forse per essere più sicuro se giochi su più fronti ma avere quattro trequartisti quindi come dico io avere il club dei trequartisti al centrocampo secondo me noi abbiamo pagato Dazio ma veramente tanto sì immagino ti riferisci a Loretto Pellegrini quindi il centrocampista eh sì scusa perdonami io cito sempre Luca Pellegrini perché io lo vedevo Luca Pellegrini abbia fatto comodissimo quest'anno per Spinazzola no cioè dobbiamo anche vedere questo Spinazzola è un simpaticissimo ragazzo però Luca Pellegrini a meno che non si brucia per la sua tempra caratteriale occhio sarà il terzino sinistro della Juventus del futuro io quando penso che poteva essere il nostro sinceramente non ci sto bene ti stai mangiando i comidi lo stesso ho fatto io quando è stato ceduto perché è un giocatore secondo me molto valido un difensore quindi un terzino sinistro che poi anche in questo caso vedi che rilasciamo il discorso con la roba poteva anche far rivedere con la roba in questo frangente di stagione comunque sì la massiccia presenza di questi giocatori secondo me è un'ennesima conferma di come la squadra è stata costruita nella maniera non adeguata quindi con dei dirigenti non adeguati un direttore sportivo secondo me è molto come dire è molto non pronto per una piazza come Roma non lo so c'è stato dall'inizio di stagione diversi errori che poi ovviamente arrivi a fine stagione li paghi tutti e questi sono i risultati più obvi Roberto Mediocri giocatori di 30 anni e passa mi scrive adesso Milena dall'Acqua Cetosa ma ci sono in Serie B dei giocatori che forse non saranno eccezionali hanno 10 anni di meno di questi resituati bellici addirittura che però potrebbero dire alla loro qualcuno potrebbe fallire qualcuno potrebbe riuscire a metà e qualcuno potrebbe addirittura fare la differenza a centro campo che ne pensa Gabriele? Penso che siamo sulla stessa lunghezza tonda sono totalmente d'accordo ci sono dei calciatori soprattutto italiani molto validi anche nella Serie Gatetta quindi perché non puntare su questi calciatori perché andare sempre a cercare fuori dai confini nazionali magari un giocatore solo per il nome solo perché comunque negli anni passati ha dato un qualcosa ma dobbiamo fare i conti con la realtà ecco lo stato attuale quindi bisogna valutare i giocatori per il momento storico attuale quindi in questo caso mi trovi totalmente d'accordo che bisognerebbe avere un po' più di coraggio e schierare appunto questi calciatori magari meno blasonati che però poi in campo riescono a dare molto di più rispetto a un giocatore che magari a fine carriera oppure non riesce più per una serie di motivi a dare quel qualcosa che serve appunto per dare una mano effettiva poi alla squadra per portare le vittorie a casa Quanto manca il fareone alla Roma Gabriele? Tantissimo secondo me quello è stato un errore proprio l'ennesimo errore vedi ci ricolleghiamo sempre poi ai soliti discorsi leggere di Stefano Esciarawi che va in Cina per soldi mi fa piacere poi ho letto anche con piacere le notizie che vorrebbe tornare a Roma ma in questo preciso momento fossi lui fino a che non c'è il cambio di domenica ci penserei molto attentamente proprio perché sappiamo che c'è il caos più totale un terremoto qui a Roma quindi mi fa molto piacere sapere che è rimasto attaccato alla maglia però sta a quello che comunque lo aspetta se dovesse tornare in questo momento poi ripeto che tra una settimana abbiamo un cambio di proprietà siamo tutti strafelici Roberto indiscrezioni che portano ad una delle fate di un canale televisivo nazionale che vediamo tutti questa fata all'orecchio mi ha detto che il signor Mandzukic non dobbiamo considerarlo un centravanti perché la Juventus l'aveva adattato al ruolo di centravanti ma lui si sente molto ala allora è vero che ha 34 anni Mandzukic ha rescesso il contratto con la squadra del Qatar è libero e questa bella fata posso dire il nome Emanuela? no quindi è una delle fate di quel canale televisivo che vediamo tutti lo ripeto ancora una volta mi ha detto che Mandzukic sarebbe molto favorevole a venire alla Roma certo vuole delle garanzie e vuole vedere che squadra si ha perché si sta allo sbando non penso che Mandzukic rimangne senza contratto fa più bella figura tanto non muore di povertà Mandzukic vicino a Zego si potrebbe fare? leggevo di questa notizia è nudo profonda stima per il calciatore quindi per Mario Mandzukic che secondo me è uno dei calciatori degli attaccanti più forti degli ultimi anni che abbiamo visto anche in Italia lo prenderei ad occhi chiusi subito sia per fare la spalla a Zego ma soprattutto per farlo rifiatare quindi avere una riserva adeguata quindi all'altezza di Adinzeco soprattutto perché comunque sappiamo che è un calciatore completo l'abbiamo visto anche schierato da Allegri in diversi ruoli anche retrocedendo appunto nel campo ma ha sempre fatto la sua ottima figura non solo in attacco sia sulla fascia sia quando è stato schierato anche a centrocampo talvolta anche ho visto mi sembra che non ricordo male anche in difesa ma io lo schiererei soprattutto in attacco perché è un giocatore di 1,90 un 34enne ormai lo sappiamo quindi l'età c'è però comunque un giocatore che secondo me alla Roma può dare ancora molto quindi almeno una stagione dura ad altri livelli la può fare senz'altro secondo me alla faccia di Schick che qui doveva spracellare tutto invece è rimasto spracellato lui poi va all'Ipsia e lì gioca decentemente probabilmente non per tutti Roma come ambiente non solo la squadra ma Roma come città come ambiente non fa per tutti gli uomini che vengono a indossare la casacca giallorossa è verissimo secondo me il fulcro principale Roberto è che non tutti riescono a reggere la pressione enorme che c'è in questa città quindi secondo me il giocatore non si discute tecnicamente Schick è fortissimo tecnicamente però si parla secondo me di aspetto psicologico ma sappiamo benissimo nel calcio che prima dei piedi la cosa che conta di più è la testa quindi quando la testa non funziona non è collegata con i piedi puoi anche essere il giocatore più forte del mondo tecnicamente ma non renderai mai al pieno delle tue potenzialità a fine stagione torna Kalsdrop dal prestito il giocatore è l'ombra di se stesso anche nel suo campionato di origine che è l'Olanda io non lo so se rimarrà nei quadri della Roma certo che l'ultimo Kalsdrop visto con la maglia giallorossa era una brutta fotocopia di quel campione di quel campione probabile che vedevamo sfrecciare sulla fascia destra l'ennesimo caso ci ricolleghiamo a Schick quindi penso che sia stato lo stesso percorso poi ovviamente ha avuto un terribile infortuna lo sappiamo quindi anche sfortuna che è stato Riccardo nella sua esperienza giallorossa lo sappiamo benissimo però secondo me c'è stato diciamo il più grande scoglio quindi il più grande spagolo anche per lui è stato l'aspetto psicologico quindi passare da un campionato delle divise quindi poi confrontarsi con la Serie A quindi un campionato molto impegnativo una piazza come Roma molto più esigente non tutti sono in grado ma io in questo caso ripeto per il luogo del Sino adesso punterei fortemente sopra Alessandro Lorenzi il prossimo anno se non riesce a prendere un calciatore più adeguato ma ce l'abbiamo in casa al giocatore Gabriele qui ti ci voglio tu hai citato Alessandro Lorenzi se rimane Fonseca Florenzi cambia aria ormai è nidido al 100% la storia no? Fonseca non lo vede per il suo gioco forse non lo so se lo stima non lo stima questi sono affari tra loro due però nella sua produzione di gioco Florenzi è superfluo è inutile può stare in panchina chiaramente il giocatore scalpita perché vuole giocare e mi si dice che c'è l'interesse dell'Atalanta della Fiorentina e di nuovo anche dell'Inter mi piangerebbe veramente il cuore se poi Florenzi mettiamo il caso nell'Atalanta dai mettiamola così poi fa un campionato veramente strepitoso mi hai preceduto mi hai preceduto stavo per dire la stessa cosa quindi non solo l'Atalanta ma come hai detto tu c'è la Fiorentina fortissima sul calciatore quindi tra l'altro ho visto anche che ha postato sui social un gol fantastico in allenamento col Valencia ma le doti del calciatore non le mettiamo in dubbio purtroppo sì c'è stato qualche scrittolio con il mister non corre buon sangue tra i due e poi Gabriele scusa c'è Massimiliano Allegri che ha speso parole di lode per Florenzi negli ultimi tempi ha detto che se lo porterebbe nella squadra che allena che dici? Massimiliano Allegri Robby io ricordo che in anni non sospetti quindi non lontanissimo non solo per il calciatore ma spese anche delle ottime parole per Roma per la città di Roma quindi perché aspettiamo a prendere Allegri se ripartiamo con la città aspetta però ecco se fosse la Roma tutta a posto Manuela mi ha guardato mi ha scritto adesso un messaggio sul monitor ma che dici è senza squadra non allena per la squadra che allena io so di qualche rumor di Massimiliano Allegri purtroppo non per Roma se c'è questa situazione questo fuori discussione con la nuova proprietà Allegri potrebbe anche rivedere la sua posizione mi dicono che Allegri dovrebbe andare al timone di una grande squadra ci dovrebbe essere un colpo a sorpresa da parte di un signore che viene dalla Cina non lo so se tu ne sai qualcosa se è soltanto una favola di primavera se il parruccone di New York cioè che se è andato a rimettere i capelli a New York se ne torna tranquillo in sordina e arriva Massimiliano Allegri a posto suo l'inscrizione è fortissima Roberto è vero stiamo parlando di Antonio Conte chiaramente però Allegri ha detto che lui Florenzi se lo prenderebbe di corsa perché un tizio cioè un giocatore che può coprirgli dalla fascia destra alla fascia sinistra e può stare in qualsiasi ruolo di centrocampo escluso mediano cioè tu hai un centrocampista duttile che ti può fare anche il trequartista all'esterno di fascia alta l'importante è che non ti faccia il terzino infatti hai un autentico gioglio a questo punto quindi ci sarà un motivo se allenatori come questo come Allegri quindi allenatori di un certo calibro che hanno vinto trofei hanno della stima per questo tipo di giocatori ci sarà un motivo quindi secondo me l'errore in questo caso io non stimo particolarmente Fonseca perché comunque avrà anche espresso un buon calcio allo Shakhtar ma qua in Italia purtroppo io non vedo gioco non c'è proprio gioco questa Roma non ha una trama di gioco perché a dicembre Fonseca ha abdicato nel senso a visto che i giocatori ormai erano quelli la squadra era quella ci adattiamo al gioco che può esprimere perché Fonseca nello Shakhtar porca miseria cioè scusate sempre l'espressione poco radiofonica perché qui c'ho le bacchettate come agli elementari praticamente nello Shakhtar aveva veramente reso splendida una squadra che poi si è rivelata modesta dopo che se n'è andato lui è vero è vero era il fattore in più di questa squadra la squadra volava me lo ricordo benissimo il calcio di Fonseca lo Shakhtar ma in Serie A secondo me lui si è adeguato molto alla Serie A quindi ha voluto un po' italianizzarsi tra virgolette ma con pessimi risultati sono quelli che stiamo vedendo anche in campo quindi purtroppo una Roma irriconoscibile che ripeto non mi soddisfa assolutissimamente non vedo proprio un gioco non c'è un gioco si cerca sempre di andare sull'esterno ma non si riesce mai a concretizzare un'azione quindi purtroppo Fonseca secondo me ha fallito qua a Roma punterei fortemente appunto se dovesse arrivare una proprietà su un nuovo mister ma un nome veramente di quelli che possono accendere la piazza e allegri farebbero ragazzo mio tu parli bene perché un nuovo mister che possa accendere la piazza ma se si ritrova devo trovare un efemismo chiedo scusa Pizze e Fichi no? l'allenatore di Grido che fa? non grida più? eh no? oppure l'allenatore di Grido con Pizze e Fichi di vincere lo scudetto può essere anche quello per carità l'allenatore di Grido sicuramente quel qualcosa in più lo dà quindi sicuramente quel qualcosa in più te lo dà però ovviamente una nuova proprietà non solo deve limitarsi ad ingaggiare un allenatore di livello ma oltre all'allenatore deve non solo mantenere i big come dicevo Pocassi ma soprattutto deve appunto incrementare il valore tecnico della squadra quindi ingaggiare anche dei calciatori di livello poi ci può stare l'anno della fortuna delle combinazioni fortuite e della bravura perché ricordo nel 79 se non vado errato mi pare che Gabriele non era nato all'epoca aveva pochi anni nel 1979 e ci fu Osvaldo Bagnoli che reclutando attenzione reclutando giocatori ormai ritenuti finiti da da determinate società tra cui la S Roma che mandò via Paolo Sirena Pizzaballa e Franzot tra parentesi ancora me lo ricordo come se fosse oggi e preso altri giocatori scartati dalla Fiorentina da altre situazioni ci vinse lo scudetto però quelle sono situazioni che nascono uno ogni cent'anni no Gabriele sì sì esatto ma basta pensare anche per restare in tema sempre di romanità al mister Agneri quello che ha fatto con l'Eister quindi non aveva una squadra diciamo così incredibile a parte quei due tre calciatori Marez Barbi insomma questi top player che adesso sappiamo che sono molto affermati però il mister magari di valore quel tocco in più secondo me lo dà poi ovviamente come dici tu ci vuole una cosa adeguata quindi bisogna comunque incrementare il valore tecnico della squadra però l'allenatore comunque secondo me è un buon 30% se non addirittura 35-40 per poi il buon esito appunto della stagione Gabriele abbiamo gli ultimi due minuti qual è l'allenatore che tu stimi di più della Roma di tutti i periodi della Roma e perché? Fabio Capello semplicemente per il fatto che è l'ultimo allenatore che ci ha portato uno scudetto quindi nell'ultimo periodo se mi parli l'ultimo periodo assolutamente senza alcun dubbio ti do il nome di Fabio Capello perché ha portato lo scudetto a Roma che però l'anno successivo di sera ad agosto fece la valigia e ci lasciò in mezzo a un mare di guai questo dettaglio tra virgoletto ho cercato di rimuoverlo dalla mia mente però poi pensando al campo ecco se tu la vedi dal punto di vista del signor Fabio Capello avevano smantellato mezza squadra giocatori che dovevano venire a Roma poi sono andati da altre parti lui ha detto io non mi faccio prendere in giro nessuno prendo e me ne vado esatto si sono visti forse Capello due scudetti di seguito l'avrebbe però potuto vincere tranquillamente con quella formazione che aveva sono d'accordo di ti ma esatto l'analisi è perfetta quindi è come hai detto tu è stato purtroppo fa male però questa è stata la verità certo invece avendo un secolo di differenza con gli anni che ho io visto che passavano cent'anni di Nils Lidl mai qualche ricordo hai visto qualcosa oppure per te rimane indifferente proprio perché non l'hai vissuto quel periodo vincere lì assolutamente sì ho visto i filmati in quegli anni purtroppo ancora non ero nato però comunque la storia anche un po' meno recente della Roma comunque mi sono documentato l'ho seguita da buon tifoso quindi comunque vincere anche lui non lo dimentichiamo anche lui ha portato uno scudetto a Roma quindi assolutamente credo miseramente cioè per i calci di rigore sbagliati la Coppa dei Campioni perché se quei tre non avessero sbagliati i calci di rigore la Roma aveva preso quella sera la Coppa dei Campioni allo Stadio Olimpico esatto ricordo le lacrime che sono uscite ancora oggi a distanza di qualche giorno magari fosse per fortuna non era ancora nato Robby quindi no è un'amarezza perché poi quell'anno la Roma l'avevo seguita più da vicino allo stadio nel campionato in Coppa eccetera eccetera quindi avere la finalissima era bello era bellissimo solo che tu affrontavi un'altra squadra che essendo arrivata in finale non era una squadra a coscinetto forse l'avversario fu sottovalutato un po' troppo forse secondo me sì comunque una serie di elementi che purtroppo hanno giocato a nostro sfavore però perdere una finale così ai calci di rigore dopo aver appunto riacciuffato il risultato ai calci di rigore ovviamente penso che sia una delle più grosse delusioni della storia romanista che resterà sempre purtroppo impressa così fortemente nella memoria del tifoso giallorosso quindi speriamo che non succeda mai più una cosa in genere perché avrebbe delle conseguenze catastrofiche secondo me una seconda volta allora Gabriele Tarangelo della redazione sportiva di Sport Radio canale di Fabio Pezzotti io ti ringrazio della tua collaborazione esterna ringrazio anche il tuo direttore di canale radiofonico Fabio Pezzotti appena nominato ti aspetto per i prossimi appuntamenti sportivi ma anche di attualità se tu vorrai per scambiare un attimo delle opinioni dei punti di vista e vedere un po' come si commenta la vita sportiva e non sportiva intorno a una differenza di anni 30 cioè tu dirai vabbè dice forse è una curiosità effimera eccessiva però chi ha 30 anni di più ci tiene a questo confronto per capire anche tante volte il mondo come va visto che poi hai l'età di uno dei miei figli per cui è giusto che io interpelli qualcuno esterno perché all'interno mi si dice non capisci niente zitto non capisci niente zitto come si fa tra padre e figlio io facevo lo stesso col mio tra parentesi però avere un punto di vista sportivo e di attualità secondo me non è assolutamente male no Gabriele no no io sono molto contento di questo ti ringrazio ovviamente ancora una volta per l'ospitalità e mi fa enormemente piacere confrontarmi con te quindi trattare diverse tematiche non solo calcistica ma anche andando verso altri ambiti quindi non solo dello sport assolutamente molto volentieri allora io ringrazio il signor Gabriele Tarangelo vi invito ad ascoltarlo anche nel file registrato su RDA Radio 1 poi non so se ci sarà una piccola sintesi a Palermo o a Messina di questo file io spero proprio di sì e poi potrete ascoltarlo nei commenti dal suo canale di provenienza che è sempre Sport Radio di Fabio Pezzotti quindi sentiremo a 360 gradi Gabriele Tarangelo per il momento lo ringrazio della sua cortesia e disponibilità vi auguro buon fine settimana insieme chiaramente alla sua Tatiana e poi umanamente parlando spero che possa tornare un piccolo raggio di sole in questo buio causato dal Covid e da quattro signori che stanno mescolando nella zuppa del Covid ok così è contento il direttore perché aveva paura di una mia sparata non c'è stata però chi vuole capire capisca eh Gabriele grazie a te Robby sempre fortissimamente quindi forza Roma e un carissimo saluto a tutti i radioascoltatori di RDA Radio 1 grazie e i saluti ti stanno arrivando in questo momento anche da Antonio De Bartolo che ha notato la nuova voce e dice ma chi è? è Gabriele Tarangelo che parla come portavoce di Sport Radio di Fabio Pezzotti poi lo sentiremo prossimamente e parlare ancora della nostra amata Roma Gabriele usciamo un attimo dai ranghi ufficiali io spero che si possa parlare bene della Roma già venerdì prossimo perché se fosse scesa al numero 7 è vero che per assurdo chi se ne frega con una squadra del genere non vai da nessuna parte però è anche vero che porca caccia miseria eri quinto arrivare settimo sarebbe veramente un tragollo che non lo so dove potrebbe portare ma di questo Robby per chiudere l'augurio più grande è di sentirci ogni settimana e parlare solo di una grande Roma quindi di dare solo belle notizie l'augurio più grande secondo me è questo e approfitto anche per sapere Antonio lo ringrazio molto e ti saluto anche Massimiliano Allegri non lo so perché Massimiliano Allegri non penso che stia ascoltando la puntata però mi mettono davanti agli occhi Massimiliano Allegri nuovo allenatore della Roma dove si firma? andiamo a firmare Gabriele? ho già firmato con il sangue apposta perché il nuovo proprietario da Roma ha chiamato Tarangelo e De Angelis come collaboratori e noi portiamo Massimiliano Allegri magari fosse sogno così è utopia forse è pazzia ho preso troppo caldo per strada ecco dove è la verità Gabriele un grande abbraccio e ci risentiamo un abbraccio a te a tutti quanti grazie ancora Roberto ciao Gabriele grazie un ringraziamento al simpaticissimo Gabriele Tarangelo noi io prego Manuela Fastini di collegarsi con Vieste poi per vedere se questo altro nostro amico che sta bello disteso sul lettino mi manda le foto io ho invidia perché qui sto grondando